xml encoding uguale utf, 8, mancada vero pochissimo, appena due giorni i, e poi gli affezionati te l'espetta dirai uno potranno tornare ad aim i rare don matteo dodicesimo, tutto pronto quindi per la dodicesima stagione di il format scelto quest'anno breve di delle novità davvero molto inter di punto la fiction è molto seguita dagli italiani, senza differenza ad l'età e il livello di istruzione punto riesca e quindi ad unire praticamente tutto il 9 gennaio si avrà l'opportuni fa di vedere i nuovi episodi, kesik un po' ranno di 10 film che hanno un tema ricorrente i dieci comandan tutti questi ultimi saranno riletti un solo da un punto di vista religios o, ma anche laico e don matteo propor rai linguaggio della commedia punto ig i protagonisti saranno lui, la tana il maresciallo punto ma des andiamo a vedere chi saranno le bra che reciteranno nelle vari puntate continua dopo la foto, n l'episodio numero 1 Cisarafab Pazzi nel secondo Cristiane Filangeri nel terzo Simonimonte Giorgia Zurina Nadir Kassel Iesimona Cavallari nel quarto Pao Rita nel sesto Teiacal nel settimo Elena Sofiarice D'Antoni O Catania e nel decimo Stefano Dioni Sì continua dopo la foto, per colo Roche non si ricordano a che punto si va tu don matteo, andiamo ad rinfrescare la memoria punto Anna coerano felice d'innamoratie erano ormai pronti ad impegnarsi eriamente per apportare dei cambia menti punto ma lei, delusa dal Pnardi, M e te in dubbio praticamente tutto non solo il rapporto, ma anche l'Ano Re in sé continua dopo la foto, R e va Spoleto inoltre un uomo di 30 anni Nì, molto affascinante e all'hostess O tempo misterioso e dal passato non Limpido, che inizia a complicarla Situazione punto Anna va dunque in crisi la capitana dovrà inoltre essere in grado di risolvere casi spinosi a biancata dal maresciallo check-in che la supporta a livello lavorat Ivo e sentimentale punto in canonica, so Fia deve affrontare una vicenda Diff Cile, che la mette davanti ad un'Ar da più grande legando la Jordi un ragazzo emarginato ma disposto a tutto per realizzare il sogno di Val punto la piccola Ines non conosce Grazie a tutti Grazie a tutti